Arriva ancora dalla Lituania il secondo corpo di mercato straniero che il nuovo basket aquilano ha firmato in vista del difficile campionato di Serie C Silver che partirà ad ottobre e che quest'anno vedrà unite in due giorni le squadre dell'Abruzzo, delle Marche, del Molise e dell'Umbria. È Matas Badris il nuovo tesserato della società di Roberto e Paolo Nardecchia, un'ala forte di 1,98 cm del 1996, atletico, in grado di giocare in velocità tutto campo ed in possesso di spiccate caratteristiche di elevazione. In difesa darà anche lui quell'aggressività e pressione su tutto il perimetro che, unitalmente alle doti dei tantissimi ragazzi aquilani provenienti dal fertile vivaio del club e del suo connazionale Rocas Pocius saranno le caratteristiche principali del gioco che la squadra di coach Titti Stama imposterà quest'anno. Badris, dopo aver giocato in Lituania nella nazionale Under-16, si è trasferito negli Stati Uniti per giocare prima nel St. John's High School e poi nel Miami Dades College. Lo scorso anno è arrivato in Italia dopo un passaggio nella Lega 3 Lituana chiamato nella C-Reale Basket in Serie di Sicilia e con la squadra cese ha disputato una stagione super ad oltre 22 punti di media partita, arrivando nella finale per il titolo ed attirando le attenzioni di tantissime squadre italiane di Serie C Gold e Silver. La società aquilana è riuscita a portarlo nel capologo abruzzese per la gioia dei tanti tifosi ed appassionati cittadini che riempiono da sempre gli spalti del Palangeli. Grazie. Grazie.